Allora in realtà ancora domenica Però questo andrà nel vlog di lunedì Abbiamo aperto il calendario dell'avvento dell'aribo E ci piace molto Ci sono tutte le caramelline formato mini Mmm buonissimo Ah mio dio ok questa giornata sta iniziando a luna e un quarto Perché stamattina non ce l'ho fatta a vloggare Poi tanto sono andata a lavoro quindi non aveva neanche granché senso Adesso sono in pausa pranzo E quindi possiamo aprire i calendari dell'avvento Allora apriamo prima quello di NYX Che è sempre una tragedia da aprire vi giuro E comunque proviamo con una mano sola ma non riuscirò mai Io non so chi l'abbia fatto sto coso ma è impenetrabile veramente Wow una lip lingerie push up Non lo so già perché l'hanno già scartato tutti sulle stories Quindi io li so sempre prima Comunque passiamo a kills Anche questo so già che cos'è perché tutti li scartano prima di me Devo smettere di guardare le stories la mattina No vabbè ci si è suicidato Uno un full size del 24 Ma dai Sono un fail totale Basta si i calendari mi stanno uccidendo Non lo devo chiudere Questo lo devo lasciare aperto e sdraiato Così almeno non faccio casini Sì è questo E all'interno Cioè praticamente mi sono già spoilerata tutto il calendario di kills Comunque Qua invece ho trovato il calendula deep cleansing foaming face wash Che quindi è un affare per lavarsi la faccia Praticamente è un cleanser Comunque ho due big news Allora a parte che Vito è già andato via ovviamente Cioè c'era proprio solo ieri sera E vabbè però sono stata contenta che tornasse E tra l'altro adesso devo anche pubblicare il video Il vlog mass degli scorsi giorni Comunque a parte questo La prima big news È che ho già iniziato a montare qualcosina Delle cose che ho preso all'Ikea E vabbè però poi vi mostro per bene Quando ho finito tutto Che spero di finire tra oggi e domani Quindi comunque lo vedrete in questo vlog Secondo la seconda big news Che io non ho ancora neanche detto su Instagram Perché cioè devo aspettare che venga ufficializzata Però tanto questo vlog uscirà dopo Quindi ve lo dico subito Ma voi lo vedrete dopo È che è raggiungibile il disco d'oro Dopo soli due settimane Quindi cioè sono troppo felice Veramente troppo felice E va bene Adesso però devo mangiare Devo fare in frettissimo Devo mangiare, pubblicare il video Fare tutto quello che devo fare per il video E tornare a lavorare Quindi va bene Poi dovrò andare in palestra E poi cercherò di montare tutto Quindi in realtà questo vlog Non è che sarà granché ricco Perché oggi lavoro tutto il giorno Quindi boh Ma sono l'unica che quando vai in palestra Torno a casa E non ha la forza di fare nulla Cioè io dovrei lavarmi Dovrei mangiare Dovrei mettere su una mensola Quali di queste cose posso fare Se non riesco neanche a raggiare solo La videocamera col braccio Oh mio dio Ma cioè Io ogni volta che vado in palestra Mi pento Mi pento di aver fatto l'annuale in palestra Perché Mi sento costretta ad andare Da un senso di povertà Che mi pervado ogni volta che penso A quanto ho speso E che se non vado Sono soldi buttati E quindi ci devo andare Ma Cioè Venirete a piangere ogni volta Ditemi che non sono sola Ditemi che anche voi Sentite questo Questo senso di essere Una nullità Quando andate in palestra Oggi Non ho vloggato praticamente nulla Perché Di nuovo Ero a lavoro Sono riuscita Però A fare un mini spezzone Quando sono andata In cantiere Nel cantiere Da casa di mia sorella Che sto facendo Che è Un punto medio Direi Cioè Mancano ancora un bel po' di cose Ma ce la faremo Adesso appunto Devo trovare Un senso nella mia vita Lavarmi In realtà Ho mentito Ho mentito a voi E ho mentito a me stessa Perché ovviamente Non sono riuscita a non mettere su La mensola E ovviamente Ho fatto un casino Che Cioè A un certo punto Ho avuto un crollo nervoso Mi veniva da piangere Perché non riuscivo a metterla su Però adesso posso farvi vedere Finalmente La nicchia Come l'ho finita E' già cambiato tutto Da come Da come era Tipo ieri L'altro ieri Dall'home tour Vabbè Allora Ho preso Questo meraviglioso Attaccapanni Come si chiama Non lo so Vabbè Questa barra Di Da Ikea Dove sono andata ieri Sotto ci stanno le scarpe Anche un po' così So dove mettere le altre scarpe di Vito E qua ci stanno le giacche Perché Vito ha anche un milione di giacche E quindi un po' stanno lì E un po' stanno qui E poi Quella mensola c'era già Ne ho preso un'altra uguale Su cui appoggiare altra roba E quei due cosi bianchi Per nascondere dentro Le cose Quando viene qualcuno E adesso il problema è che Intorno a me Regna il caos Più totale Non riesco a togliere la punta Dal trapano Di mio padre Quindi Ciao papà La toglierai tu E adesso Devo solo più Lavarmi Mangiare Mettere a bosso E editare il vlog Insomma un sacco di cose Messe in meno da piacere Ah poi un'altra cosa Che non avevo Non vi avevo fatto vedere Sono questi meravigliosi cuscini Che ho preso su Aliexpress Cioè solo le fede L'ho preso da Aliexpress Però sono tanto carucce Ho preso poi i cuscini da Ikea E li ho messi qua Così fanno molto Tumblr E soprattutto Almeno queste piante Non mi muoiono Vero? Comunque lo scorcio da qua Della nicchia più piena Mi piace molto di più Così La trovo più completa Fatemi sapere se vi piace A parte che vabbè Questo cos'è veramente pratico Comunque a parte il fatto Che c'è le rotelle Quindi si sposta facilmente Ma comunque Mi Cioè mi serviva proprio Quindi fatemi sapere Cosa ne pensate E sappiate che Potranno essere solo Commenti positivi Perché non ho nessuna intenzione Di disfare tutto questo Buonasera Perché è sera adesso Ovviamente non ho vloggato nulla Oggi Proprio zero Ho lavorato tutto il giorno Testa china sul computer Quindi Non aveva senso Però Stasera Vabbè Adesso devo ancora mangiare Poi però Dopo Vado Con delle mie amiche A mangiare Una crepe dolce E quindi Vabbè Magari vi Vi firmo qualcosa Però sì Oggi in realtà Non c'è veramente Nessuna news Ah no ecco Però vi volevo dire una cosa Che è da ieri Che me la porto dentro E ve la volevo dire Io e Vito L'altra sera Quando è tornato Abbiamo iniziato Dark La nuova serie di Netflix Quella lì Che ovviamente Hanno super pubblicizzato E Tedesca mi pare Credo sì È tedesca Ed è un po' Sulla scia Di Stranger Things Se proprio vogliamo Cioè Gente l'ha accomunato A Stranger Things Secondo me Non c'è proprio Da fare il paragone Cioè Stranger Things È tipo Dieci mila volte Meglio di quella Ma di qualsiasi altra Settiva al mondo Comunque Detto questo Voi cosa ne pensate L'avete vista? Non abbiamo viste Due puntate Finora E Non lo so Non sono Super presa Spero Di prendermi Un po' di più Nel futuro Comunque la continuiamo Perché Ovviamente è un giallo Quindi comunque Ti tiene un po' Incollato Allo schermo Da dire Oddio cosa succede Comunque Ci sono cose strane Poi anche lì Anni 80 E la centrale nucleare Che è paragonabile Alla centrale di Hawkins E la cittadina piccola In cui non succede mai niente E gli inciuci Cioè insomma Diciamo che Qualche parallelismo c'è Ma non è paragonabile Comunque adesso Mangio Poi mi trucco un po' Ah e poi Mi sono arrivati Due ordini Che avevo fatto Uno con il Black Friday Da Da Sephora Avevo preso Delle maschere Vabbè Che in realtà Erano riempitive Giusto per arrivare Alla Somma Per avere la spedizione Gratis E poi ho preso Il fondotinta Di Urban Decay L'All Nighter E l'ho preso Nella tonalità 05 E ho detto Cavolo Sarà Chiarissimo Ecco Non è questo il caso Prende ossida Che fa paura Quindi ho pensato Di farvi il video Comparazione di questo Con un altro fondotinta Che ho ordinato Decem Di nuovo Della marca The Ordinary Questo qua Costa 7 euro E quindi voglio farvi La comparazione Di un fondotinta Super full coverage Da 7 euro E uno Super full coverage Da 36 euro E vedere insomma Quanta differenza Ci può essere Tra questi due fondotinta Oltre al fatto che Questo probabilmente È leggermente scuro E l'altro Leggermente chiaro Ma appunto Come vi ho detto Si ossida Da paura Poi vi metterò Nel video La foto Di quanto si ossida E vabbè Comunque Fatemi sapere Se siete interessati A questo tipo di video Tanto lo girerò Probabilmente comunque Prima o magari Prima che esca questo Non lo so E va bene Adesso mangio Perché sto svenendo Ho deciso Mentre aspetto Che si cuocia la mia cena Vi faccio anche Un mini haul Di cose di Shein E Romwe Che ho preso Perché non ho voglia Di fare un video Qui apposito Cioè ve le faccio vedere così Così Più senso di Capito no? Allora Prima di tutto Ho preso questa maglia Che tra l'altro Mi avete chiesto Già in mille Su Instagram Dove l'avessi presa Dove l'avessi presa Perché L'ho già messa E niente L'ho presa su Shein O Romwe Vabbè Io vi lascio link Qua sotto Così sapete Dove trovarle Comunque Mi piace tantissimo Perché ho le maniche Così a sbuffo E troppo carina Questo rosa Vabbè Ormai lo sapete Rosa mi ha ossessionata Ma questa l'ho presa Anche in Bordeaux E voilà Infatti Sì oddio Forse più che Bordeaux E rosso Vabbè Lì è molto vivido Come colore Ma la realtà È un po' meno Rosso Sparaflesciante È un po' più Bordeaux Che comunque Mi piace troppo Guardate che carina È troppo carina Poi ho preso Sta felpina Con scritto Friends Come la serie tv Perché ovviamente Sono ossessionata Cioè Raga È la miglior sitcom Dell'universo Comunque È super carina Anche questa Sì in realtà Questa è più granata Io non so perché I colori vengano così Con sta luce Comunque È tipo granata Di sfondo E poi il logo Di Friends Vero Che carina Poi ho preso Sti pantaloni Che se vi ricordate Voi ho già preso Una volta Ma erano troppo piccoli Ora li ho presi L Ma E mi stanno L'unica cosa È che stanno malissimo Nel senso che Praticamente Questo è il davanti No Rimane tutto Abbondante qua È tutto calante È bruttino Abbastanza bruttino Quindi Non ve lo faccio vedere Per pudore Però Mi dispiace Perché mi piacciono Veramente tantissimo Sti pantaloni Però A me stanno Veramente male Quindi Io non ve li consiglio Onestamente Invece Per il resto Mi piace un sacco La roba che ho preso Stavolta Soprattutto Le due magliettine Quella rosa E quella rossa Le bordeaux Facciamo un sacco Ho deciso Che mi trucco Con la collezione Di Glossip Ho intenzione Di utilizzare Sicuramente La palette Nude Questa qua Che ho mostrato Nello scorso vlog E poi E poi Probabilmente Anche la lip palette Questa qua Non lo so Magari le matite Vediamo Cosa tiro fuori Trucco finito Mi piace Mi piace parecchio Ho usato La lip palette Questa qua Ho utilizzato Questo colore Che si chiama Preppy Rose Molto carino Quindi sono pronta Per uscire Ma sono in parecchio Anticipo Almeno sono già pronta Ok ma vogliamo Parlare del freddo Ma perché Perché dicembre Why Perché non possiamo Essere come a Los Angeles Che L'inverno Si sta bene Non si gela Che stress Street Ups 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.